In Portogallo la polizia ha sequestrato oltre sei tonnellate e mezzo di cocaina destinate alla vendita in Europa. Tre persone sono state arrestate, tutti i cittadini portoghesi, ma si sospetta che facciano parte di un'organizzazione criminale transnazionale. Questa droga non ha per destino final il nostro paese, ha per destino altri paesi del continente europeo e, di accordo con i nostri dati, naturalmente, tendo in conto la quantità e tutto il circunstanzialismo che rodei questi transporti di droga per il territorio nazionale, L'operazione denominata Tartarus si è svolta nell'arco di due mesi, durante i quali sono state effettuate perquisizioni immobiliari e sono stati sequestrati documenti e vari beni, tra cui auto di lusso.